Anche il clero recupera le prestazioni arretrate e causa lockdown. Il Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, questa mattina si è recato al Centro Universo di Silvimarina per la benedizione di Pasqua slittata per la pandemia. Un invito che ho accolto molto volentieri, anche perché sono realtà sul territorio molto importanti, sono luoghi di aggregazione e la Chiesa deve essere vicina non soltanto a coloro che organizzano, ma anche essere vicina a coloro che partecipano a questi momenti di incontro all'interno in una realtà così compresa come un centro commerciale. Con quello che tutti voi vengono, che ci sono stati lockdown e quant'altro, non era stato possibile fare la classica benedizione di Pasqua che noi facciamo nel territorio. E quindi ho chiesto a Montina se poteva venire, benedire tutti noi, e darci anche una mano, un conforto, una parola, una pacca sulla spalla per dire dai ce la facciamo, andiamo avanti, che si riparte tutti insieme e ce la faremo. Il Vescovo auspica anche che nell'attività aperta e la domenica possano svolgersi le celebrazioni eucaristiche. Speriamo che anche in questo cerchio cominciare ci possano essere momenti di incontro, anche di preghiera, e spero anche qualche celebrazione eucaristica e domenica, perché molti sono qui la domenica, vivono ore in questi centri commerciali e credo che la Chiesa non può non far sentire la sua presente. Presenti anche il sindaco e il vicesindaco Di Silvi, che hanno pregato all'ingresso del centro commerciale insieme al numero uno del Clero Teramano. Ci fa piacere la visita di Sua Cerenza il Vescovo, però sul nostro territorio, e poi su un impianto che sicuramente darà e dà molta soddisfazione alla città. Non dimentichiamo che il centro commerciale, che oggi ci ospita, programma e dà comunque lavoro a tante famiglie, ma soprattutto fa tantissime iniziative di carattere sociale che interessa non solo Silvi, ma tutto l'Interland di questa zona.